Verrà avviata a breve una campagna di sterilizzazione massiccia nei confronti dei cani randaggi presenti sul territorio comunale. Ad espletare il servizio saranno tre veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento due volte a settimana. A comunicare la nuova risoluzione è stato il sindaco Angelo Cambiano al termine del secondo incontro nel giro di pochi giorni con associazioni, gestori del canile municipale e personale del servizio veterinario dell'ASP. La novità riguarda però la sinergia attiva avviata con le associazioni di volontariato con finalità animaliste operanti in città. Abbiamo incontrato già per la seconda volta in otto giorni le associazioni e i volontari che con tanto amore si occupano di questa problematica, si occupano di accudire i cani randaggi e di dare loro affetto e servizi anche. Abbiamo approntato delle soluzioni nel breve, medio e lungo periodo. Ho informato che il progetto per la realizzazione del nuovo canile in un terreno confiscato alla mafia è già pronto ed è nella sua fase esecutiva, però serve dare una soluzione nell'immediato. C'è stata la disponibilità da parte delle associazioni di provvedere e procedere all'adozione di cani randaggi dietro la corrisponzione di un piccolo contributo per sostenere naturalmente delle spese vive e ciò ci permetterà di avviare una campagna di sterilizzazione massiccia all'interno del canile perché abbiamo avuto anche la disponibilità del servizio veterinario che ha messo a disposizione tre medici per effettuare due volte a settimana le sterilizzazioni. Dopo le sterilizzazioni il cane deve essere ricoverato per 17 giorni e quindi il meccanismo delle adozioni a parte delle associazioni ci permette di liberare posti nel canile e di prelevare i cani randaggi dal territorio comunale. Il benestare delle associazioni con scopi animalisti presenti in città era arrivato già in occasione del primo incontro svolto in municipio a metà della scorsa settimana. Cambiano ha specificato inoltre come il regolamento su questo tipo di adozioni è quasi pronto e nel giro di pochi giorni verrà portato al baglio del consiglio comunale. Sembra essere questa pertanto l'ultima frontiera individuata per fronteggiare quella che ha assunto ormai da tempo tutti i crismi dell'emergenza con più o meno tutti i rioni della città alle prese con almeno un branco di randaggi e sotto gli occhi di tutti come il problema non possa più essere procrastinato. Nei mesi passati abbiamo assistito anche ad abbedenamenti o tentativi di abbedenamento in varie parti della città, playa e villaggio gricolo su tutti, episodi da condannare senza alcun dubbio ma che rappresentano lo specchio di una situazione di esasperazione da parte dei residenti. Le zone più calde restano quelle di Corso Argentina e dell'area portuale di Marianello dove stazionano ormai perennemente animali di grossa stazza.